abbiamo marforever che picca donkey kong che ne pensi? io sono una testa ok donkey kong è su... cos'è? town and city? è town and city questa o smash? se era town and city era molto buono per la prima cargo entrata modificate la grafica ragazzi va bene tanto flash vai c'hanno ok parlaci del match oh smashville marforever decide di andare in donkey kong che personalmente penso che dd avrebbe fatto meglio con il tuo rob si ma è marforever ok mi sembra abbastanza coinciso questo commento marforever lo utilizza molto per quasi non diciamo disrespect però lo usa più per divertirsi nelle prime fasi di torneo certo capito beh comunque donkey kong non è che è male no lo usa molto bene lo usa molto bene non è un personaggio però sicuramente lui quando è sicuro usa donkey kong quando ancora non è sicuro della vittoria o comunque in generale di reggere testa con l'avversario usa dd certo ad esempio prima in grand final ha utilizzato donkey kong ma non per una questione di disirispetto semplicemente perché era 2 a 0 si è sentito sicuro ha detto proviamo a fare un match con donkey kong e ci ha pure vinto mazza contro dinamirer no contro uno a caso capito ehm newtube? si newtube beh non è neanche un match a perrofo male donkey kong no effettivamente infatti è qui comunque donkey kong è a 145% ma ha una stock in me questo non è da trascurare andiamo ancora alla trottola 168% donkey kong è il secondo personaggio più pesante del gioco ricordiamo bello questo becker ma lascia lo scudo ingenuamente qua ma forever anche lui è rd non so per quale motivo dopo ce lo facciamo dire ecco qua la cargo bravo a connettere con il fair la prossima potrebbe essere già letale eccola qua cargo no l'ha fatta male ma ha quasi rischiato comunque di uccidere vediamo qua ecco la back air probabilmente sarà la back air la mossa che darà la vittoria a mar forever se non una... oh bella nata fatica a ritornare on stage vediamo perchè anche un gimp potrebbe dare la vittoria e invece la smash l'applauso da parte di mar forever agli sforzi dell'avversario che però non sono abbastanza 1 a 0 per mar forever dico usa solo rob dico usa anche corrin ehm però rob in questo match up non è troppo male c'ha sempre giro e laser mandate sharp in stream sharp non è nemmeno in winner dov'è? che fine ha fatto sharp? ah contro robertino è in loser sta ok no stiamo tendendo a mandare solo la winner per ora aspetta adesso chi ha vinto? mi sono perso adesso ha vinto 1 a 0 mar forever tira tente poi sbagliare se c'è mar forever ha vinto mar forever e sceglie zero su samus? eeeh questa non gliel'ho mai vista devo essere sincero è un pochetto di disrespect che è questo? no non è disrespect io ti ripeto mar forever lo fa per divertirsi non per disrespect e comunque anche per testare nuovi match up è un giocatore che non vuole rimanere fermo su un solo personaggio e fa anche bene esatto bravo qua a seguire l'avversario sta andando molto bene anche perchè se questo è disrespect no no sta giocatamente bene sta zonando molto bene gli attacchiari e no il punto è questo magari sono personaggi con cui ha meno esperienza in torneo e che vuole appunto vuole appunto mettere in pratica proprio per vedere se è in grado di portarli magari in qualche fase avanzata del torneo come ha fatto con donkey kong all'inizio prima non lo utilizzava mai adesso addirittura si permette di usarlo in grand final qua si connette ma mi sembra che ha fatto sbi vediamo qua la back air viene preso però dal fulminaccio dal lazerone ha provato qua la kill di back air che però non va viene subito smorzata da rob di hiko non è 64 a 101 prova la pair a cercare di dar fastidio a un eventuale gimp che però non arriva stiamo ora 70 a 101 prova il down b che però va a sbattere sul scudo ancora la trottola prova ad evitarla teccando ancora la laser e sta andando nido si nel neutral game è stata del più la dolce vediamo perché il punto è sempre lo stesso oh addirittura il side smash di mix up riesce a a portare a casa qualche danno ancora la trottola ora a disposizione appunto dell'eroina del pianeta l2k è una colonia terrestre allora tanto qua si se la prende immediatamente bravo a sfruttare i lag di rob e quindi il vantaggio va a 0 su di samus in questo momento a mar forever viene preso cioè che prende l'avversario sono a 24% la vedo veramente dura anche perché samus ora ha a disposizione anche un buon rage effect con il quale magari con il neutral b tra una sessantina no con il con la p scusate potrebbe già tra una sessantina e una sessantina per giocale di danni l'hai chiamato quasi prendere appunto la kill vediamo qua la pv no la pv non dovrebbe fare fuori questo neutral b molto strano eh si stiamo ecco che parto ancora il laserone bello questo perfect shield prova left hit che però non va attenzione al down smash che non kill la infatti c'è la parte di mar forever lancia in alto la trottola bello il back air la trottola ricade la prende al volo addirittura mar forever che paralizza l'avversario però con questa fame si prende quindi la prima stock dell'avversario rd will take over speed penso che sia qualche meme in realtà rd che rd intente preoccupato back air intanto e quindi c'è la vittoria da parte di mar forever praticamente quasi pulita quasi una stock pulita di vantaggio per lui ed eccoci qua quindi 2 a 0 mar forever passa al prossimo turno ed andrà contro il vincitore del match tra pref ed amj vabbè io ti lascio da solo e tra un po' c'ho il mio prossimo ciao ciao ciao